Mentre qui sotto in piazza 20 settembre è ancora in corso la manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle in riferimento al prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre per sostenere le ragioni del no, noi a Udinese TV vogliamo fare un po' i bastian contrari e parliamo delle ragioni del sì, parleremo anche di quelle del no prossimamente ma intanto questa sera siamo con Paolo Ermano che è del comitato Basta un sì, si chiama così, quello udinese? Sì, il comitato Basta un sì del Comune di Udine. Paolo Ermano, adesso prendo al balzo una delle considerazioni che ha fatto così scherzando prima del vostro incontro di oggi che avete presentato il comitato se la regia mi aiuta mi manda di sovraimpressione l'articolo che ho scritto io, in questo caso molta autoreferenzialità per la presentazione al Caffè Contarena oggi alle 11 del Comitato Udinese per il sì scherzando col professor Leopoldo Cohen che oltre a essere un bravo giurista è anche un bravo umorista mi ha detto ma si potrebbe parlare del ma chi ce lo fa fare? ecco glielo chiedo ma chi ve lo fa fare questa cosa qua del comitato per il sì, Ermano? Beh, bella domanda anche perché comunque c'è da dire che c'è un certo... Ci sta riflettendo parecchio eh? No perché c'è una certa atmosfera che non sai mai se sia giusto o no farla presente ma c'è una certa atmosfera che punta a quasi a portare, a farci che la gente un po' quasi si vergogna, si intimorisca a dire che è per il sì. C'è un po' da sfigati votare sì? Un po' da sfigati, un po' da controcorrente, un po' boh, solo che l'unico paragone che mi viene però non è molto felice Ma facciamo, ci piace l'infelicità È quello con Trump a fine Ah ok, ma in che termini? Si spieghi bene? Praticamente, come dire, l'idea è che il fatto che secondo me il Presidente del Consiglio l'abbia molto personalizzato Sì, questo è errore gravissimo, adesso si sta cercando di... Ha quasi reso automatica la relazione di se è favore per il sì, quindi sei pro Renzi Sì, plebiscito pro contro Renzi E questo ovviamente se una persona è a favorevole alle politiche proposte, all'idea di politica proposta dal Presidente del Consiglio non vivrà questo dilemma ma basta avere qualche dubbio, peraltro legittimo, come tanti possono averlo sulle politiche del Presidente Renzi a quel punto dici, cosa faccio? Se dico per il sì, tutti mi punteranno il dito dicendo Ah, ma allora anche tu sei un renziano schifoso Per cui questa cosa come frena un po' le persone Anche le sporsi Dalle sporsi Dalle sporsi Un po' come accade, facendo invece memoria sull'Italia Quando nel 2000 Berlusconi vinse, anche qua altro esempio Perché personalmente la ritengo nefasto come era per esempio Quando Berlusconi vinse nel 2000, se ricordo bene, le elezioni Fece praticamente un terzo degli italiani, degli aventi diritto, votò per Berlusconi e per Forza Italia Perché incarnava dei valori che in realtà in Italia sono molto presenti Ma siccome era quella figura di incarnarli Non andava bene La gente, come dire, si vergognava un po' di dire Sì, ho votato Berlusconi Sì, un po' alla vecchia, no? Nessuno votava Democrazia Cristiana Esatto Esattamente 40 e fischia per cento Non avendo avuto la possibilità L'opportunità di poterci mai scegliere Democrazia Cristiana Non mi ricordavo quell'esempio Ma chi l'avrà mai votato? C'era, è uscito in questi giorni un articolo interessante In questo caso dell'inchiesta Che ho sempre L'inchiesta appunto è del direttore Vediamo se mi aiuta la regia con il pezzo In sovraimpressione Vediamo questo no Perché è un'altra cosa ragazzi Quello era il fatto quotidiano Benissimo, ecco qua Perché votare sì senza essere leziani Questo è molto interessante Ve lo consigliamo perché fa una specie di Vade mecum degli errori anche gravi Della politica in questo caso Del presidente del Consiglio Renzi E del suo governo Ma spiega bene Per chi, voglio dire, avesse dei dubbi Per chi vuole votare no certamente O per chi vuole votare sì Certamente non serve fare ulteriori approfondimenti Per chi dovesse avere dei dubbi però Magari li facciano Magari riescono a cambiare Magari Non volevo, come dire, oberare la gente Di altri pensieri No, uno ha preso una posizione Magari siamo per il decisionismo No, più che altro perché sì Come dire Lei ovviamente è del comitato per il sì Sì, io sono applicato per il sì Però ho anche A partitico ricordiamo Spero di avere sì A partitico Nonostante oggi alla presentazione Ho visto solo gente del PD Questo va sottolineato No, fra i presenti Beh, per esempio c'ero io E non sono del PD Ok, questo è già un buon punto di partenza Per esempio ci sono 64 persone Che hanno sottoscritto il manifesto E altri che se vogliono aggiungersi Benvengano E di questi Penso veramente una parte molto minima Anzi direi Nessuno è sostanzialmente iscritto al PD Che poi ci sia una parte Che sia simpatizzante Questo è un altro discorso Sono anche persone del manifesto Che sono simpatizzanti Di partiti del centro-destra Questo non toglie forza Anzi ne aggiunge di forza Al manifesto Dice così Adesso dopo Andremo a vedere Dopo anche i nomi Dei componenti del manifesto Beh, adesso per fare un po' Quelli più significativi A parte il professor Cohen C'è Fra quelli che sono intervenuti Oggi A parte lei Oggi siamo intervenuti in quattro L'amo io Piero Petrucco Che è amministratore delegato di ICOP Esatto Di ICOP di Basiliano Delle realtà In realtà industriali È un'altra parte più interessante Nell'ultimo report Del messaggero veneto Che stila la classifica Delle 500 aziende Più importanti della regione La ICOP risultava Nelle prime 5 Per incremento di fatturato C'era Alessandro Verona Di vicino lontano C'era Alessandro Verona Che è il presidente Della associazione culturale Di vicino lontano di Udine Sì Questi sono i quattro Che abbiamo presentato oggi Sì Poi presenze diciamo Conosciute come L'onorevole Coppola C'era L'assessore Pizza C'era Enzo Martinez E quindi Diverse Queste politiche Queste sono Sì sì Queste erano componenti politiche Però erano lì Questo lo segnaliamo Contestualizziamo un attimo Questo referendum Perché Se ne è iniziato a discutere presto C'è il rischio che uno Già si stufi Manca Poco meno di un mese In questo caso Perché si vota il 4 dicembre Però Se ne è iniziato a discutere Un paio di mesi fa In maniera energica Forse qualcosa di più Però La cosa Storicamente Nasce Alcuni anni fa Contestualizziamo Allora Nella discussione Che è emersa Anche insomma Chiunque sta seguendo Un po' il dibattito Emerge come In realtà Anche una parte consistente Di chi sostiene Si dice Guardate che queste riforme Però In nuce Come idee In realtà Hanno 30 anni Già da 30 anni fa Sono state commissioni parlamentari Che hanno cercato un po' Di indagare il fenomeno Senza arrivare Insomma a raccontare Che la questione risale Alla Dama e Deva Perché poi Si ricorda anche Che anche Durante la stessa Assemblea Costituente Alcuni temi Come per esempio Il bicarbonismo perfetto Fu oggetto di Forte discussioni E probabilmente Il fatto che poi Si giunse al bicarbonismo perfetto Cioè ai tempi C'era lo spettro Che li predica maggioranza Del partito comunista Quindi andava scongiurata Esattamente In tutti i modi Per questioni contingenti Più che per questioni Di diritto O di creare Un assetto Amministrativo Particolarmente efficace Fu scelto Il bicarbonismo perfetto Ma al di là Insomma senza arrivare Di nuovo ad Adama e Deva Già nel 2013 Se ricordo bene Sotto governo Letta Fu nominata una commissione Di esperti Maggior parte Di questi costituzionalisti Per cercare di indagare E di proporre Degli emendamenti La legge costituzionale Nel 2014 L'allora presidente Napolitano Die demandato Al governo Renzi Perché Ricordiamo Che comunque Il governo Renzi Nasce anche Con quel mandato Di proporre Un disegno Di proporre Una riforma Della Costituzione Da sottoporre alle Camere Per la sua valutazione Che puntasse Su alcuni temi chiave Tra cui Il più importante Era il superamento Dello bicarbonismo perfetto Cioè il fatto Che entrambe le Camere Hanno sostanzialmente Gli stessi poteri E le stesse funzioni Quindi se ricordo Nel marzo del 94 Il governo presenta Questo disegno Di legge costituzionale A firma appunto Della ministra Boschi Al Parlamento Dopodiché Per due anni Ne venne discusso E votato Dal Parlamento Ci sono state sei votazioni Tre per Camera E dopo di che Oggi una cosa che diceva Il professor Cohen Era Ricordatevi che C'è un sacco di gente Che ha votato Per la riforma costituzionale E adesso dice no Eh sì Per esempio Questa cosa Proposte nella loro Riforma bocciata nel 2006 Ora Tutto questo ha portato Alla nascita di un referendum Perché? Perché Dopo la setta votazione Il testo finale È stato approvato Con una maggioranza Inferiore ai due terzi Che è la maggioranza Richiesta dalla Costituzione Per poter essere cambiata Certo Eh Senza passare Dal vaglio dei cittadini Che è un vaglio Ricordiamo Politico Perché poi Il cittadino Non si istituisce Al legislatore Compito del Parlamento Modificare la Costituzione Però è compito A dei cittadini In questo caso Di valutare Se la riforma Vada bene o meno Per cui Proprio per la procedura In sé Prevista dalla Costituzione Si arriva al referendum Per cui Non essendo stato votato Con più dei due terzi Il testo finale Dei parlamentari La Costituzione stessa Prevede Che ci sia questo Il referendum Consultazione Popolare Che ha quindi Noi adesso Andremo a votare Il 4 di dicembre Tra i Diciamo Gli ostili Al Alla risposta Affermativa Al referendum C'è con una campagna Di sensibilizzazione Parecchio forte Il fatto quotidiano Come avrete potuto vedere Anche sui social Il no è bello Stampato in grande Sulla Home page Del fatto E anche sulla fanpage Di facebook Sul twitter Insomma Si danno parecchio Da fare in questo senso In maniera Legittima Chiaramente Io mi sono Tirato giù Un po' Di I motivi Per dire no Secondo Va molto Per chi è Avezzo All'uso dei social No Le dieci migliori cose Le dieci cose più significative Piace molto Questa Alcuni erano veramente noiosi Quindi li ho lasciati perdere Però Certi Li voglio sottoporre al nostro ospite Vediamo cosa mi dice Così in maniera Spontanea Istintiva Uno di questi è Una cosa che viene contestata È Vergogna Il senato non viene abolito Ma con consiglieri Regionali E sindaci È un pasticciaccio All'italiana Cosa diciamo a riguardo Allora Ci sono diversi Punti Provo a delencarli Sono alcuni In senso Punti in risposta A questa osservazione Primo Forse anche Quello più strategico Di tutti È che probabilmente Non era possibile Eliminare il senato Mi spiego Anche se ci fosse stata La volontà Probabilmente in questo contesto Non c'erano i numeri Per farcela provare È come sempre L'ottimo nemico del bene Quindi piuttosto Che non Che mantenere tutto com'è Arriviamo a un compromesso Per cui il senato Lo manteniamo In qualche modo Piuttosto che niente Meglio piuttosto La friulana Esattamente E lo manteniamo Però a questo punto Visto che abbiamo mantenuto Prendiamo a dargli Un volto diverso Un volto che peraltro Prevede appunto Che 74 senatori Vengano eletti Dai consigli regionali 21 senisindaci Che parteciparanno All'assemblea Più alcuni senatori Non avvita in realtà Quindi senatori Nominati Della Presidente La Repubblica Per sette anni È un fatto Insomma Che anche i nostri consiglieri I nostri assessori Comunali di Udine Possa capitare Che vada una Roma Per lavoro Perché ci sono Tutta una serie Di questioni Che puoi discutere Ma anche Semplicemente Avevano anche procedurale Solo con i ministeri E questo puoi farlo Sulla Roma Dall'altro Io vorrei ben sperare Che la mia regione Abbia un rappresentante Che è forte Quindi un rappresentante Del suo consiglio regionale Quindi che è stato eletto In regione Per fare La funzione Di rappresentante a Roma Cioè in questo senso Ci sarebbe più rappresentanza Territoriale Secondo me Sì rispetto a un senatore Che per questioni di liste Viene messo in regione FVG viene eletto In nostra regione Ma come in qualsiasi altra regione Va a Roma Per quanto possa avere Rispetto del territorio Che l'ha eletto Non ha particolari legami E soprattutto Non conosce magari La complessità territoriale Si tratterebbe però Data anche L'organizzazione Del senato Di impegno Non a tempo pieno E tutto sommato In assemblee Che contano 30-40 consiglieri Se anche uno Prende E sta Anche se se stabilmente A Roma Non sarebbe Non sarebbe Un problema Anzi potrebbe essere Lo strumento Il veicolo L'ambasciatore Che potrebbe portare Nella camera Per avere dei legami Con il palazzo Con la stanza dei bottoni Come si dice Esattamente Chi Contesta Questo provvedimento Ovviamente dice Sì così Sarà una scappatoia Per Per Avere l'immunità Per consiglieri Regionali Fedifraghi In questo caso Dei filibustieri L'ho capito C'è questo rischio Perché è inutile Starse la gira C'è questo rischio Ma dobbiamo sempre stare A fare normative Dobbiamo sempre stare A pensare Ogni volta Per fare Qualsissi cosa Che per forza Ci sarà sempre Quello che frega Dinamica molto italiana Dinamica molto italiana E come dire Non facciamo quell'opera Perché Eh ma c'è il rischio Di infiltrazioni mafiose No ci metti Cantone Visto che ormai Il Non cantone Del comitato No non cantone Che mi sono andata Ma cantone Il Raffaele Il rappresentante Dell'agenzia Anticorruzione italiana Non si ricordo bene Ci metti il cantone Ci metti Anche i militari Se devi metterci qualcuno Metterci qualcuno Che protegga Quelle infrastrutture E la fai Quindi è un po' La questione olimpiadi Sì non può essere un problema Dire ma c'è qualcuno Che ruba E vabbè Ma dobbiamo fermarci Sempre solo per quello Dovandi a questo punto Blocca tutto Certo Non può essere un argomento Oltretutto C'è un aspetto interessante Il fatto che il senato E la camera Abbiano due provvedienze Antropologicamente diverse Deputati e rappresentanti Dei territori Eterogene Creerà anche una sorta Di competizione Fra le due Competizione che può essere Virtuosa fra le camere Perché ci sono Interessi diversi Che dovranno trovare Una sintesi All'interno Del dibattito parlamentare E questo Può essere sicuramente Molto più ricco Questa ricerca della sintesi Dell'attuale In cui il senato E camera Sostanzialmente Sono antropologicamente Molto meno diversi Sono molto meno Eterogenee Nelle loro espressioni Delle loro idee Di quanto Possono essere in futuro Senta Altra cosa che viene messa In discussione Dal fatto quotidiano In questo caso È Il risparmio inesistente Dice La propaganda Per il sì La mena tanto Col fatto che Si risparmieranno Un sacco di soldi Invece Sono bruscolini 50 milioni di euro All'anno Cosa diciamo A riguardo Beh Le stime in realtà Sono diverse 50 milioni Fu la prima stima Se ricordo bene Che fece la corte dei conti Ma solo su una parte Dei costi sostenuti Dal vecchio senato Quindi in realtà La stessa corte dei conti Dice Guardate che stiamo comunque Sottostimando Sottostimando il tutto Però qui c'è un altro tema Adesso Non so che magari Dirò qualcosa Politicamente poco corretto Va benissimo Grazie I costi della politica In Italia Sono se ricordo bene 4 miliardi e mezzo Lo stato italiano Costa circa 800 Ora Se dobbiamo Se tutto il problema Della spesa pubblica italiana Si concentra Sui 4 miliardi e mezzo Della spesa Che va da pagare Il consigliere Che ne so Del paesino È chiaro Perché fa specie ovviamente Il politico che prende soldi A questo punto però Torniamo alla questione di prima Ci blocca tutto Perché però Ci costano tanto Io voglio un politico Che costi tanto Voglio un politico Che sia bravo E che sia giustamente pagato Perché sia bravo Perché faccia il lavoro bene Non è Affermazione molto impopolare Non mi interessa Però lo so Ma va bene così Ma va bene così Non lo so Forza Germania No forza Germania Non lo so La sanità È la prima voce Le pensioni Sono la prima voce Di spesa in Italia Nel nostro Stato Eppure C'è ancora gente Che si accapiglia Per la legge Fornero Che non fu fatta Proprio bene Ma che aveva Il suo scopo Che è riuscito a perseguire Ma era anche Discutibile Discutibile Però lo scopo Era necessario Che era quello Di stabilizzare Un po' le cose Perché Perché purtroppo A fianco A molte persone Che hanno difficoltà Nel arrivare a fine mese Con le pensioni Minime C'è una parte Non poco considerevole Di pensionati Che guadagna cifre Considerevole E non lo dico io Lo dice L'ha detto anche Boeric Guardate che forse Dovremmo ricalcolare Le pensioni Anche perché Una parte Di queste persone Che guadagnano molto Hanno ottenuto Giustamente Alla fine della loro carriera Un'alta pensione Però calcolato Con un metro Diverso Da quello Che utilizzaranno Per me E non vedo Casomai ci arrivasse Casomai ci arrivasse Non vedo Perché adesso Sono stati in maniera Diversa Di uno nato Nel 40 Se non me ne vogliano Quelli nati nel 40 Non volevo Però Adesso Riceveremo tempestati Da telefonate Di gente arrabbiata I temi sulla spesa Dello Stato Cosa da politica Un tema importante Perché Perché vediamo Che molti politici Non lavorano Come dire Sono oggetto Di avvisi di garanzia O di altri problemi Però Come dire E puntare la luna E guardare il dito Ok Oggi che c'era la super luna Oggi che c'era la super luna Sì È il paragone Corretto Sulla questione invece Deriva autoritaria Altra cosa Che viene sottolineata È Un partito Guadagna Un terzo Dei consensi E ha un potere Sproporzionato Nel caso In cui vinca Le elezioni Cosa diciamo A riguardo Allora Ci sono due questioni La prima è che Non andiamo a votare La legge elettorale Ok Chiariamo questo spesso Sì Andiamo a votare Una legge Che ha una durata Temporale Si suppone Che quella costituzionale Molto più lunga Della legge elettorale Le legge elettorale Si cambiano Molto facilmente Prima questione Seconda questione Di fronte a questa Continua obiezione Lo stesso presidente Del consiglio Renzi Ha detto Guardate Siamo disposti E tutto il suo partito Siamo disposti A metterci intorno a un tavolo E a discutere Tuttavia Anche se non cambia La legge elettorale Insomma Ci ricordiamo molto spesso Che uno dei grandi mali Della politica italiana Mali È una grande condizione Per me non è un male È un dato di fatto Sì È che c'è un grande cambiamento Di posizioni Tra un partito e l'altro La maggioranza assoluta Si tratta di Se ricordo bene 25 persone Solo nell'ultima legislatura Pensano che siano cambiate Di casacca Più di 300 Fra Camera e Senato Non ho i dati Ma è verosimile Ecco Forse un po' meno Ma comunque Sono in ordine Di almeno due centinaia Sì Non una ventina di persone Non una ventina Quindi è molto mobile La situazione Per cui non vedo Questa deriva autoritaria Oltretutto Al di là del fatto Insomma Anche esponenti No Hanno detto Che non c'è questo rischio Però c'è una cosa A cui io tengo molto In questa riforma Che si aumentano La possibilità Da parte dei cittadini Di intervenire Direttamente Nel processo legislativo Attraverso Un rafforzamento Dello strumento referendario Perché Spieghiamo bene Com'è questa situazione Attualmente il referendum Prevede Per dire un referendum Prevede che Un gruppo Un comitato Un'organizzazione Raccolga 500.000 firme O 5 consigli regionali O 5 consigli regionali Sì mi scusi Giustamente 500.000 firme Li porti in Parlamento E può A questo punto Può essere indetto Un referendum Abrogativo Quindi che serve A eliminare Una norma di legge Purché La maggioranza Delle 20 diritto Va a votare E dopodiché Si vede Come è andato Esatto Quindi nel momento In cui viene proposto Il costituto referendario Insomma lo sapete Più di qualcuno Avrà partecipato Gli ultimi sono andati Tutti in malora In questo senso Tranne quello dell'acqua Ricordiamo Però 50% più Uno degli eventi diritto Devono andare al seggio Devono andare a votare Quindi deve essere il quorum Sì molto spesso I temi referendari Scaldano A un certo punto Quello dell'acqua Scaldato gli animi C'era poi anche quello del nucleare Se ricordo bene Appaiato E l'ho già entrato a votare Con la riforma Dopo la morte di Pannella Difficile scaldare gli animi A livello referendario Sì Con la riforma si prevede Che si aumenta Si dà la possibilità Di seguire un'altra strada Raccogli 800.000 firme Invece che 500.000 firme Sì Se raccogli quindi più firme Ma però sono di più Come facciamo? Compromettete La nostra possibilità Di partecipare Rimane la possibilità Di raccogliere 500.000 Rimane Ma volendo ti do uno strumento di più Se ne raccogli 800.000 Cosa succede? Si va a referendum Ma non si vota più Col quorum sugli eventi diritto Ma si prende le ultime Se ricordo bene Le ultime elezioni amministrative Nazionali Si vede contestata La percentuale di votanti E su quella percentuale Effettiva di votanti Viene calcolato il quorum Che probabilmente è più basso Del 50% Quindi Se ti impegni di più prima A raccogliere firme Io ti do un vantaggio Nella possibilità Di far sì che questo referendo Non possa Avere successo E in più Viene finalmente regolamentata In maniera chiara In maniera costituzionale La possibilità che hanno i cittadini Di proporre una norma Raccogliendo 150 mila firme Si può proporre un disegno di legge Alle camere Alla camera Scusate Si passa Alla camera E questo deve essere Obbligatoriamente calendarizzato Cosa che non è mai accaduta Questo dispositivo era già previsto Questo istituto era già previsto Nella costituzione originale Non è mai stato applicato Perché mancavano Tutta una serie di Di volontà Fondamentalmente Perché di regole Adesso c'è un vincolo forte Devi calendarizzarlo E quindi La camera Non può sottrarsi Dal farlo Senta poi Ultima cosa Che mi era sentito interessante Questa la prendo Dal vostro Dal vostro manifesto Per il sì Competenze esclusive Allo stato Su ambiente Politica energetica Infrastrutture E politica attiva del lavoro Sono tante cose Se magari si vuole soffermare Su Politica del lavoro Che mi piace Di più in quanto economista Benissimo Allo stato italiano Allora Quando c'è stata L'onda pesante Della crisi economica Lo stato italiano Ha speso molti denari Per la cassa integrazione Questo voleva dire Che c'era uno strumento Di politica passiva Del lavoro Sì Ammortizzatori sociali Ammortizzatori sociali Che aiutava le persone A superare Le persone e le imprese A superare Il momento di difficoltà Però Devenivano in mandata Alle singole regioni L'adozione Di strumenti Per far sì Che se Nella Nella sfortunata Casa Che l'azienda Poi Avesse chiuso O fosse Ristrutturato A parte la sua attività Chi Poi si ritrovava a casa Senza un lavoro Erano le singole regioni Da mettere in piedi Degli strumenti Normativi Per poter aiutare Per poter aiutare Queste persone A ritrovare un altro lavoro Le cosette politiche attive Ok Ovviamente In una regione Può funzionare bene Questo dispositivo E in un altro meno bene E in un altro meno bene Questo è ingiusto Nel senso che Non è colpa mia Se sono nato in Friuli O sono nato in Sicilia O sono nato in Molise O sono nato in Valle d'Aosta È più o meno un caso E quindi È giusto che Anche le politiche attive Quelle che mi riporteranno Quelli che mi aiuteranno A reinserirmi A reinserirmi Nel mercato del lavoro Abbiano la stessa cornice A livello nazionale E non siano demandate Alle singole regioni Infrastrutture Nel senso Se devi fare la strada Che porta da Che ne so Da Fedis Ad Atimis Nessun problema A livello locale Va benissimo Ma quando devi fare Per esempio adesso La A4 La terza corsia Della A4 Quella è una questione Che diventa Infra regionale Se devi decidere Non so La composizione Degli aeroporti In Italia In Italia Che è il paese Con il più alto Il numero di aeroporti Su superficie Mi pare sia un tipo Più di 60 aeroporti Perché? Perché ogni regione Ha la potestà Di poter definire Questa politica Non ha senso Non serve Perché diventa Crede Delle inefficienze Dei costi Che poi si riversano In qualche modo Sempre sul Cittadino Che paga le tasse Perché comunque Lo Stato Poi a un certo punto Quando è costruito L'aeroporto È forzatamente Costretto In qualche modo A un punto di vista Della politica A un punto di vista Della pressione sociale A in qualche modo Mettere una pezza Dove le regioni Hanno ecceduto Nella loro volontà Di fare un dono A un territorio Nella loro virtù Diciamo Nella loro virtù Questo è giusto Che finisca È giusto che ci sia Un disegno nazionale E poi le regioni Prendendo disegno nazionale Decideranno come Specificatamente intervenire Questo è giusto Che finisca Dice lei È giusto che finisca Anche questa puntata Perché siamo arrivati Alle otto La ringrazio Per la sua presenza Per il tempo Va bene Molte grazie Alla prossima Paolo Ermano E grazie a tutti voi Che ci avete seguito E appuntamento Alla prossima puntata Domani sera Alla stessa ora Con Viceversa Grazie a tutti